eccoci ciao ciao a tutti eccoci con il primo incontro della rubrica stare dentro se stessi tra scienza e spiritualità roberto greco assaggioli lo scienziato dello spirito dunque con roberto assaggioli il dottor roberto assaggioli andremo a individuare quelli che sono i punti di contatto tra scienza e spiritualità intanto in questi primi incontri capiamo e scopriamo chi era roberto assaggioli roberto assaggioli intanto il primo psicanalista italiano il fondatore della psicosintesi che nel corso degli incontri andremo a comprendere bene di che cosa si tratta che cos'è la psicosintesi adesso basti avere l'enunciato che si tratta di una scienza che considera l'essere umano come una totalità quindi va a considerare non soltanto la mente ma ogni parte quindi non soltanto il subconscio l'inconscio ma anche qualcosa di più spirituale quindi più animico dunque roberto assaggioli nasce a venezia il 27 febbraio del 1988 da madre e padre ebrei greco il padre ebreo veneziano morì quando roberto assaggioli era ancora molto piccolo anche il padre adottivo era ebreo ed era veneziano dunque era un medico e attribuisce il suo riconosce quindi roberto assaggioli come come suo figlio per cui prenderà il doppio cognome il cognome greco del padre naturale e del del padre adottivo la mamma elena caula era una studiosa di teosofia e infatti influenza il giovane assaggioli che si interessa alla spiritualità orientale ne approfondisce i concetti e si confronta con numerosi uomini di quelle di quelle terre tra cui il poeta tagore dunque il contatto con questa popolazione gli rammenta in nella quotidianità che la l'uomo fa parte di un'unità universale pulsante quindi il corpo rappresenta solamente una parte di questa unità la famiglia di roberto assaggioli quindi è aperta di influenze e culture internazionali senza però perdere la propria identità assaggioli si diploma all'istituto foscarini di venezia in un particolare indirizzo ovvero un indirizzo classicista e scientifico ed è proprio questo particolare indirizzo che rappresenta uno stimolo per il suo futuro interesse per la medicina e per la filosofia sin da giovane roberto sapeva di volere diventare un medico nel campo dei nervi e dei problemi psicologici così come dice lui testualmente dunque nel prossimo appuntamento continuiamo ad approfondire chi era roberto assaggioli e poi negli incontri negli episodi successivi andremo a entrare nel merito di quelle che sono le tecniche di meditazione consigliate dall'idiatore della psicosintesi ciao alla prossima